E ciao a tutti e grazie e bentornati in questo nuovo video, qui è Pablo Gialloroso e siamo qui oggi con questa video recensione su Empoli Roma, sigla e poi analisi No vabbè raga, comunque sia, non è possibile, non è possibile che i portieri avversari diventino sempre Superman, non è possibile Cioè siamo proprio sfortunati, siamo stati proprio sfigati, perché non dimmo de no, la partita è che abbiamo dominato per 80 minuti su 90 Primo tempo partiamo subito a razzo, Skorupski non so che, cioè no, 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 non mi può farà quel filo là, no, te dai mi lo fai entrare, non mi sta bene, non mi sta bene Poi ancora dopo, ancora Skorupski che salva, cioè raga non è possibile, Skorupski oggi che si era bevuto, come si chiama? La pozione di Spongebob, no Spongebob, di Asterix e Dobelix, non senza parole Poi per la seconda parte del primo tempo, l'Empoli cerca di creare qualcosa, probabilmente è solo giropalla La Roma un po' si plaga, finisce così il primo tempo, un po' noioso per certi versi Ancora nel secondo tempo la Roma prova a segnare, però ci manca quella cosa e più dentro l'aria Ci manca sempre l'ultimo passaggio, l'ultimo tocco, l'ultimo tiro Poi quando riusciamo a fare l'ultimo tiro, ci pensa Skorupski o stamannona qua a buttarla via Cioè non ci credo, non ci posso credere Nel primo tempo l'unica occasione dell'Empoli è stato il tiro di Pasqual Nel secondo tempo l'unica occasione dell'Empoli è stato il tiro di Pasqual Dove non so, dovete stare a tormentare pensando fosse fuori gioco Perché Maccarone si era fuori gioco, però Pasqual da dietro la poteva prendere Quindi la Roma si è addormentata E poi anche con Maccarone che si è divorato un gol Ma per il resto la Roma ha dominato La Roma ha sempre creato, ha sempre avuto occasioni Non so, io stavo, stavo, cioè Abbiamo buttato una partita Abbiamo buttato la possibilità di andare di nuovo a meno 2 dalla Juve Ora stavo a meno, se prima eravamo a meno 2 ora stavo a meno 4 Cioè non è possibile, non è possibile Con l'Empoli, solo noi riuscimmo a pareggio con l'Empoli Il fatto è che è anche meritato sto pareggio Perché la Roma meritava di vincere Però se non riescessi a neanche potremmo fare Un po' Skorupski, un po' noi ci hanno castigato sta partita Perché alla fine Skorupski ce l'ha a Lempoli Non è che io possiamo levare, diciamo, è colpa sua se non abbiamo vinto No, non è colpa sua È un giocatore come gli altri 11 Però siamo stati proprio sfortunati Perché quando non c'è Skorupski l'ha pesata Pasqua L'ha sulla linea e l'ha buttata via Poi nel finale, Salah, Fimio, che cosa te butti? Cioè in me lo sento molte persone Che hanno iniziato a dire Eh, c'è stato il rigore per la Roma C'è stato il rigore su Salah L'hanno pure ammonito per la simulazione Ma ci stavo più in giro, regà Ci stavo più in giro davvero Ci stavo attaccare a quella cosa lì Cioè l'ha sbagliato Salah Non è il rigore tutta la vita che non era il rigore Non era il rigore, Salah si è buttato Salah si è tuffato Voleva fare il furbo Salah Voleva fare il furbetto Voleva dire Sto dentro l'area, c'ho questo qua che mi sta dietro qui E mi butto, ci danno il rigore E vinciamo 1-0 Però non tutti sono stupidi Quindi l'arbitro ha capito che te volevi fare il furbetto La persona che Ragazzi, ci penso io che mi butto Ma dov'hai? Ma che mi stai a fare? Ma che hai fatto? Lì dentro l'area la palla Volevi ributtare al mezzo No, tu hai voluto fare la sceneggiata Che te buttavi per terra Ah Salah Ma per favore, hai fatto una partita inguardabile Ma oggi Salah ha giocato malissimo Sempre in fuorigioco Sempre che sbagliava A me Salah non mi è piaciuto E poi per la cittadina sulla torta Se buttano l'area del rigore così al 93 Perché? Perché? Perché l'hai fatto? Perché? Pensavi di essere più intelligente? No, invece no Ci ha fatto perdere l'occasione Dentro l'area del rigore E sono errori che non vanno fatti Tatticamente Salah È scarso Non tatticamente A livello proprio di intelligenza calcistica Fa così Fa errori Elementari Ora Voglio sentire Romaniisti Occasionali Che iniziano a dire Eh Gieco Non ha segnato Quindi ha fatto schifo Gieco non ha segnato Mamma mia Ha fatto 300 tiri Non ha segnato Gieco È uno degli unici Che salvo Gieco è uno degli unici Che salvo Perché stava ovunque A prendere le palle alte Che stava solo Gieco a prenderele Che si è guadagnato un sacco di falli pure Quindi Gieco Migliore in campo Sì lo dico qui Non mi frega niente Gieco è il migliore in campo Salah è il peggiore in campo Gieco Ha fatto tutto Vagia per palo La centrocampo Che prendeva sempre le palle di testa Le stoppava Allungava la squadra Poi allargava anche il gioco per Salah Allargava anche il gioco per Sharawi Allargava Anzi Accentrava anche il gioco Palla a terra Per il centrocampista Per parete So per De Rossi Gieco le ha prese tutte Poi è stato anche sfortunato in molte occasioni Perché Skorupski ci ha messo la sua Altre occasioni È stato ben tamponato dai difensori Non poteva fare niente di più Ed in Gieco Ci ha messo tutto Gieco Quindi che dice il contrario Beh Facesse pace col cervello Fazio che nel primo tempo Ha sbagliato tantissimo Fazio nel primo tempo Ha giocato malissimo Poi nel secondo tempo Si è ripreso Riuscendo a tamponare molte situazioni Che potevano essere insidiose Per l'Empoli E comunque sia Non so che dire Un pareggio Che poteva essere Una vittoria tranquilla Un po' Un po' siamo stati sfortunati Un po' siamo stati anche Stupidi Per certi versi Allora ragazzi Questo video finisce qui Lasciate like Un commento Iscrivetevi Da Pablo Giotteros È tutto Adios Ciao a tutti Ciao a tutti